Edizione serale del nostro giornale, buonasera ai nostri ascoltatori, ben trovati a questo appuntamento con l'informazione. Apertura dedicata al Principino, perché dopo l'incontro di ieri tra il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e l'imprenditore Roberto Brunetti, stamattina abbiamo sentito come l'amministrazione potrà sostenere velocemente tutte le pratiche burocratiche che dovranno permettere al titolare del Principino l'apertura per la prossima stagione balneare. Il servizio. Apertura alla vigilia della stagione turistica 2018 con un investimento milionario per riqualificare l'intero complesso turistico Principino acquistato all'asta fallimentare dall'imprenditore Roberto Brunetti. Le sue funzioni, rassicura l'imprenditore, resteranno quelle originarie. Questo è emerso nel corso del colloquio di mercoledì tra lo stesso Brunetti, presidente del club nautico Viareggio Versilia, e il sindaco della città Giorgio Del Ghingaro. Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo la burocrazia che nel nostro paese è sempre meno accogliente con le imprese e con chi vuole investire. Nel caso del Principino le autorizzazioni per le opere di ristrutturazione dovranno passare da molteplici tavoli di discussione per ottenere il Via Libera dalla paesaggistica, Belle Arti, Capitaneria di Porto, Demagno Comunale, Dogana eccetera. Insomma un groveglio di leggi, tra di loro non di rado in contraddizione, che non vorremmo intralciassero l'apertura per l'estate 2018. È chiaro che l'amministrazione comunale, come ha più volte ribadito, ritiene tutti i beni, compreso il Principino, beni pubblici, invendibili, inalienabili e quindi continuerà la propria battaglia istituzionale e giuridica per far sì che questi beni tornino tutti alla casa madre, cioè all'amministrazione comunale. Però è inevitabile che c'è stata un'attribuzione e con questo gruppo imprenditoriale mi sono sentito di parlare subito per capire dove volessero andare rispetto a un bene centrale per la città. Ho ricevuto ampie rassicurazioni, non solo, ho ricevuto anche chiare indicazioni rispetto al percorso e questo non mi ha fatto che piacere e quindi l'amministrazione comunale non può che sostenere iniziative di questo genere che vanno incontro al bene della città. Abbiamo visto in questi giorni delle brutte immagini arrivare dalla spiaggia di Lidio di Camaiore in Marina di Petrasanta invasa dal Lavarone, tanti complimenti ora da parte dei turisti a tutti i soggetti che in piena sinergia si sono dati da fare per eliminare il Lavarone nel più breve tempo possibile. I mezzi hanno lavorato ininterrottamente, stamani la riva era un'altra cosa nella gioia di grandi e piccoli, bagnanti ma anche per i balneari. Andiamo a Massarosa e occupiamoci dei rifiuti indifferenziati che stanno arrivando in grosse quantità a Pioppogatto. Una risorsa per il comune di Massarosa dice il sindaco Mungai rispondendo a chi invece sostiene che diventi il Pioppogatto la pattumiera della Versilia. La delibera del 17 maggio scorso adottata dal comune di Massarosa che autorizza il massimo conferimento possibile di rifiuti nell'impianto di Pioppogatto, provenienti anche dal territorio extra Versilia, è stata contestata dalle forze politiche di opposizione che temono lo stoccaggio e l'ammucchiamento di rifiuti indifferenziati. Sull'argomento interviene il sindaco Mungai che chiarisce i dubbi. I rifiuti arrivano, i rifiuti vengono lavorati, viene separata la parte organica dalla parte di metallo e poi vengono rimandati nei vari siti dove devono andare. Quindi è un luogo dove si lavorano i rifiuti. Il lavorare i rifiuti in quello stabilimento vuol dire dare occupazione alle persone che lì ci trovano il proprio lavoro. Quando Erso è subentrata a Vera nella gestione dell'impianto, ha riassunto i 28 dipendenti che ci lavoravano, li ha assunti tutti dandogli un orario ridotto perché il volume dell'afflusso di rifiuti non consentiva la piena occupazione. Il dare occupazione a queste persone a tempo pieno non è forse già un motivo insufficiente per poter dire portate i rifiuti. Il fatto che si metta in condizione di poter essere efficiente da un punto di vista di gestione e avere dei risparmi che gli consentano agevolmente di pagare il canone i 950 mila euro e sta pagando, non è un motivo sufficiente. Io non capisco tutta questa agitazione, le royalty che vengono pagate anche a Massarosa, noi abbiamo questo impianto, lo vogliamo far lavorare. Poi viene strumentalizzato il puzzo che si crea, che si è sempre creato tutti gli anni in questa stagione dovuta alla torba, dovuta ai fossi, dovuta all'impianto della morina perché poi dove si lavorano il rifiuto all'aperto è alla morina, non è più appogato. Quindi io credo che ci sia da ragionare in maniera un pochino più seria rispetto a quello che viene fatto comunemente da parte di certe persone. Il Consiglio Comunale di Massarosa ha approvato due regolamenti che hanno come obiettivi quello di semplificare e rendere meno onerosa l'edificazione e quello di creare le condizioni per mettere in sicurezza il territorio. Cerchiamo di fare del nostro meglio, ha spiegato il vice sindaco Damasco Rosi, attraverso prima le verifiche e poi gli atti per dare le risposte al territorio, per migliorare le condizioni di soddisfacimento delle esigenze abitative, per gravare il meno possibile sulle tasche dei cittadini e per ridare ossigeno al settore dell'edilizia e per rendere il territorio massarosese più sicuro in maniera omogenea. Proteste contro la Movida nel centro storico di Camaiore e anche sul litorale. Se non si inventano occasioni di richiamo per la clientela possiamo chiudere i battenti, dicono i commercianti. Il servizio. Ce l'hanno sempre con noi, questo dicono i gestori di locali di intrattenimento che torchiati dalla crisi, dalle tasse e dai continui controlli per i veri o presunti rumori, per sopravvivere si inventano modi nuovi per attrarre la clientela. La Movida sul territorio camaiorese, sia in centro che sulla costa, suscita proteste tra gli abitanti, specialmente del centro storico. Per l'assessore al commercio Carrai le iniziative di intrattenimento, se valide e importanti, vanno tutelate. Il centro storico di Camaiore intanto è un centro vivo, è un centro vissuto, vissuto da camaioresi e da cittadini, non è un centro prettamente turistico, per cui accolgono volentieri le manifestazioni di livello e di qualità, sono più dubbiosi e vorrebbero che venissero gestite meglio le manifestazioni musicali o di intrattenimento musicale che possiamo considerare numerose. Proprio per questo motivo, già da anni, ma ultimamente con la nascita anche di nuove attività commerciali, sono nati nuovi modi di fare intrattenimento e proprio per questo va codificato. Il centro commerciale naturale di Camaiore, abbiamo avuto il primo incontro dopo il nuovo insediamento qualche giorno fa. A oggi, a breve, avremo il prossimo incontro per vedere di individuare delle date con un calendario qualitativamente superiore che rivaluti non solo il centro storico con le attività stesse, ma anche la vita quotidiana dei cittadini che lo abitano. La cronaca durante i controlli da parte dei carabinieri di Camaiore, di Torre del Lago chiedo scusa, è stato arrestato in fraganza di reato Ruffo Cesario, classe 1976, disoccupato, pregiudicato, poiché ritenuto responsabile del reato di evasione. Nella circostanza, due militari liberi dal servizio avevano notato il predetto a bordo della propria bicicletta che passeggiava tranquillamente per il centro storico di Torre del Lago, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari che lo obbliga a permanere all'interno della propria abitazione. Lo hanno bloccato e naturalmente lo hanno condotto in caserma. In un'altra circostanza, invece, i carabinieri di Rido di Camaiore, durante un pattugliamento in uniforme per contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, hanno costretto numerosi abusivi ad abbandonare tutta la merce illicitamente messa in vendita. In totale, solo durante le ultime giornate, sono stati recuperati e posti sotto sequestro 24 paie di scarpe con marchio Nike e altre ancora con marchio sportivo, 4 borselli, Louis Vuitton, Prada, 16 maglie con Marco Stone Iceland, Hermut & Blaine, Napagiri e poi altre con marchio di Giorgio Armani, un portafoglio da donna con marchio Gucci. Andiamo a occuparci ora invece dei lavori durante la stagione estiva nelle scuole, nei plessi scolastici dell'intero territorio del comune di Viareggio. Il comune investe 800 mila euro nelle scuole e nella messa in sicurezza degli edifici scolastici. Vediamo. Lavori in corso alle scuole di Viareggio, 400 mila euro già deliberati e finanziati, ai quali vanno aggiunti ulteriori 400 mila euro per vari lavori di copertura, aule ludiche, ascensore, alle scuole Snoopy, Tomei, Puccini, Beconi e Florinda, Malfatti, il Nido Balù e la scuola secondaria Motto, per il quale è in corso l'esprettamento del leader tecnico amministrativo per il finanziamento. Nel dettaglio i lavori già partiti riguardano la Lambruschini, dove è in corso il rifacimento degli intonaci del refettorio, 49 mila euro, e la realizzazione della nuova aula al primo piano, 50 mila euro. Alla scuola per l'infanzia Quilone si sta lavorando invece per l'impermeabilizzazione delle coperture, così come al grillo parlante. Inizio ad agosto invece per il completo rifacimento della terrazza di copertura alla Lenci, l'impermeabilizzazione e il risanamento della Tomei e della recinzione della scuola per l'infanzia Coriandolo. Per settembre sarà inoltre installato un nuovo impianto di sorveglianza alle Pascoli. È in corso la gara per la scuola dell'infanzia Don Beppe Socci, oltre 48 mila euro, per il completo rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture. Attenzione massima agli edifici scolastici quindi, ma anche alle strade che li incorniciano. Mover sta intervenendo in vari punti per risolvere la criticità delle radici dei pini che sfondano l'asfalto, creando pericolosi avvallamenti. In atto una novissima tecnica che punta a risolvere il problema, ma anche a salvaguardare i pini. Oggi intanto sono iniziati i primi lavori in via Virgilio nel tratto di fronte alle scuole. Andiamo a Pietrasanta perché la strada degli ombrelli volanti si allunga e si prolunga. L'installazione collettiva che ha fatto salire Pietrasanta sul poggio dei comuni, più instagrammati della Versilia, è stata appena ultimata su via Garibaldi e a partire dalla prossima settimana, sarà realizzata anche nel cuore della Marina. Non solo, l'amministrazione di Pietrasanta ha deciso di lasciare il cielo di ombrelli sulla piccola Atene e sul litorale fino alla fine di agosto. Dunque verrà prolungata questa immagine. Ora gli ombrelli appesi nel cuore della città sono 1800 per un tratto lungo un chilometro, ma a partire dalla prossima settimana il cielo colorato sarà ricreato anche nella via Versilia a Tonfano. E andiamo ora a Palazzo Medicio a Seravezza che ha aperto le sale splendide del palazzo che fu dei Medici per ospitare una grande mostra dedicata ad un grande pittore, Plinio Nomellini. Il servizio. Le sale di Palazzo Medicio di Seravezza ospitano da oggi, a quasi vent'anni dall'ultima esposizione monografica, una splendida mostra di pittura di Plinio Nomellini, artista livornese scomparso agli inizi degli anni 40 del secolo scorso. Dal divisionismo al simbolismo, verso la libertà del colore. Questo il titolo dell'esposizione curata da Nadia Barchionni. Le opere più significative di Nomellini appunto questa è il Golfo di Genova del 1891 e si può dire che è un incunabulo nel divisionismo italiano. Ci sono molte opere celeberrime, il piccolo bacco di Pitti, Baci di sole della Galleria d'Arte Moderna di Novara e appunto molte altre che sono state prestate dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna come la fiera di Pietrasanta, la fiera di Camaiore è stata prestata da Genova Nervi. Insomma una mostra molto grande e articolata che appunto prevede di seguire tutte le tappe svolte dall'artista nella sua carriera. Soddisfazione per questo importante evento culturale dell'estate 2017 che resterà aperto fino al 5 novembre è espressa dal sindaco Tarabella. La nostra promessa è quella di migliorarci anno dopo anno. Quest'altro anno vedremo, tanto garantiamoci un 2017 pieno di frizzante armonie. Questi sono bellissimi quadri, ho avuto fare un piccolo giretto prima e ho visto quanta bellezza ci sia in quest'artista, quanta capacità di rappresentare la natura, la cultura del luogo e delle persone. Non dimentichiamoci che poi ci sono anche dei dipinti che riguardano Camaiore, riguardano il Pietrasanta, è un artista dei nostri, è un po' la tradizione nostra è quella che qui all'interno a noi si faccia dimostrazione della capacità degli artisti che hanno lavorato in questi luoghi e per noi comunità versiliese. Una bella iniziativa ieri mercoledì alla Bagno Mascotte di Lidio di Camaiore, uniti contro la SLA, presentato il torneo estivo a scopo benefico per ricordare una grande persona, Marco Rosata, deceduto per colpa di questa grave malattia. Tante persone sono intervenute mercoledì pomeriggio al Bagno Mascotte di Lidio di Camaiore per la presentazione dell'iniziativa sportiva organizzata dall'Associazione In Gioco per la Solidarietà Onlus, associazione benefica senza scopo di lucro portata avanti con impegno e partecipazione dal 2009. In questi anni, ha spiegato il presidente Federico Pedonese, che nella sua introduzione ha ricordato Marco Rosata scomparso a causa della SLA, l'associazione ha organizzato numerosi eventi per aiutare realtà locali o nazionali. Alla presentazione dell'iniziativa era presente la famiglia Rosata e il presidente onorario Tiziano Crudeli. Abbiamo una conoscenza superficiale ma non entriamo mai nello specifico, forse anche per paura. Queste iniziative fanno bene, fanno bene perché danno un contributo e aiutano. È anche l'occasione per parlare di queste malattie. Oggi è un evento importante, un evento che tutti noi dobbiamo cercare di contribuire in qualche maniera perché, ribadisco, le finalità sono assolutamente straordinarie. Al di là dei contenuti tecnici della manifestazione in sé per sé, sono le finalità che sono estremamente importanti. Andiamo ora a Camaiore dove ha preso via ieri il Palio dei Rioni, Pazzle, Locomotiva e Ballino. Queste sono le novità, le nuove sfide che sono partite ieri sera. Stasera si replica nuovamente, qui vediamo un momento della presentazione di Giacomo Lucarini. E' entrato dunque nel vivo proprio ieri sera il Palio dei Rioni di Camaiore, la lotta per il cencio da due anni detenuto dall'arione Ponte Mazzori. Inizia dal tiro alla fune, vinto da Treborghi nel 2016, ovvero il gioco principe, un mini palio a sé stante ed è sentito anche dagli altri atleti che vigareggiano e che accompagnerà tutte le serate allo stadio comunale e che, come il vincitore del Palio, darà il detto finale solo sabato 15 luglio. Dunque grande attesa per le esibizioni che si svolgono allo stadio comunale di Camaiore per questo evento fra folclore e sport, vedete la Corsa dei Sacchi, molto partecipato e che riscuote grandi consensi e applausi da parte del pubblico. Questo è un altro momento del Palio dei Rioni con il tiro alla fune molto sentito e tutti i rioni di Camaiore, come abbiamo detto, partecipano a questo evento. Domani sera potremo avere già i primi verdetti e daremo un risponso di questo con un servizio interamente dedicato al Palio dei Rioni di Camaiore. A Chianciano Terme dal 2 al 9 luglio si sono svolte le nazionali di scacchi Under 16. Era la prima volta che il circolo scolastico della Versilia partecipava e lo ha fatto con quattro ragazzi che si trovavano in quattro categorie diverse. Anna Poletti, vediamo in queste foto, Anna Poletti dicevamo per la categoria Under 12 femminile, Francesco Bertolozzi per gli Under 12, Marco Poletti Under 14, Nicola Chimenti Under 16. I ragazzi si sono difesi, si sono incontrati con realtà importanti e molto strutturata appartenenti da circoli di tutta Italia. Anna Poletti è stata giudicata la migliore della categoria ed è chiuso con quattro punti e mezzo. Francesco Bertolozzi con sei partiti e una vittoria ha totalizzato quattro punti. Marco Poletti ha chiuso con tre punti e mezzo alternando belle partite a errore che gli sono costati un paio di punti lasciati per strada. Infine Nicola Chimenti ha raccolto quattro punti nelle prime sei partite e ha mollato l'acceleratore negli ultimi tre punti. Sabato 15 luglio alle 21.15 secondo è attesso concerto del Corsanico Festival giunto alla 36esima edizione Rassegna Internazionale di Musica Classica organizzato dall'Associazione Culturale Amici della Musica dell'Organo Vincenzo Colonna di Corsanico preseduta da Graziano Barsotti con incarico di direzione artistica. Sabato sera in scena I Carmina Burana. E' importante appuntamento domani venerdì 14 luglio oltre all'apertura ufficiale del Festival Lirico di Torre del Lago che inizierà come sempre in queste circostanze con il salotto dell'opera che partirà in diretta a partire dalle 20 aspettando l'inizio dell'opera che verrà trasmessa poi nel settembre pucciniano. Importante appuntamento dicevamo domani alle 18 presso Teatro Estate nella Pinetta di Ponente a Via Reggio. Ospite del talk show pomeridiano la Presidente della Fondazione Carnevale di Via Reggio Maria Elena Marcucci sarà intervistata da due condittori abituali degli incontri Giulio Arnolieri e Francesco Borracini che porranno all'ospite domande di vario genere sul suo importante ruolo in città alla luce degli ultimi sviluppi in seno alla Fondazione Carnevale. Dopo il più che positivo Carnevale 2017 verrà affrontato il tema di quello ormai alle porte il Carnevale 2018 a partire dalla rivoluzione delle date e negli orari dello svolgimento dei corsi annunciata ormai da tempo. Ci sarà anche la possibilità per il pubblico presente di porre domande all'ospite. Organizzazione a cura dell'associazione per un futuro possibile onlus. L'ingresso è certamente libero. E poi la misericordia di Lido di Camaiore dalla triste notizia della scomparsa di Don Dino Bertozzi, 87enne, correttore spirituale dell'epoca della misericordia di Camaiore e Lido. Don Dino ha proseguito la sua opera fin dopo la metà degli anni Ottanta come parroco della comunità del secco. Ed ora facciamo un breve stacco pubblicitario e poi dopo la pagina sportiva. Di nuovo insieme per la seconda parte dedicata allo sport. Iniziamo con l'hockey. Ieri c'è stata la presentazione del numero uno, così è stato giudicato, dell'hockey. Il portoghese che vestirà le maglie e i colori bianconeri del centro giovani calciatori di Areggio. Il mister della squadra che debutterà nel campionato di A1 la prossima stagione, quella che inizierà con l'autunno prossimo, si dice soddisfatto e per l'acquisto e soprattutto per la capacità di inserimento che ha avuto il nuovo arrivato dal Portogallo. Vediamo. L'allenatore del centro giovani calciatori Alessandro Bertolucci che qualcuno aspettava la conferma, ma aveva il contratto ancora per un anno quindi non c'era bisogno di essere confermato perché era già sicuro di poter guidare la squadra bianconera anche il prossimo campionato, avrà a disposizione il campione Reinaldo Ventura, uno dei giocatori più forti al mondo che farà fare sicuramente un salto di qualità al centro giovani calciatori, sarà importante anche per sviluppare insieme al fratello Mirko il settore giovanile portando quell'esperienza in un mondo okeistico a livello giovanile per la crescita dei ragazzi bianconeri. La società aveva l'idea chiara su questo giocatore qui, sapevamo che era un giocatore di esperienza, sappiamo che è un giocatore di qualità, darà una mano come ha detto lui, darà una mano già a una rosa ben quadrata e poi vediamo come si integra nei primi mesi soprattutto quando rientrerà dal mondiale in Cina perché lo perderemo praticamente per tutta la preparazione, però in questi giorni qui sta affascendo il campus con noi qui a Viareggio, lo sento parlare che ha veramente preso da questa esperienza qui, è innamorato già di Viareggio dopo pochi giorni che è qua e non vede l'ora, me l'ha ripetuto più di una volta che non vede l'ora di cominciare. Sempre per l'Hockey inizia in questo fine settimana, domani e sabato, l'International Roller Cup che sbarca in Versilia, una bella manifestazione che ha come protagoniste le migliori squadre di hockey, vediamo. Fa tappa in Versilia l'International Roller Cup, manifestazione giunta alla non edizione che vedrà la sezione dedicata all'Hockey, ci sono anche patinaggio artistico e street roller, disputarsi alla Pala Forte venerdì sera e alla Pala Barsacchi sabato con inizio alle ore 20. I giocatori convocati sono 20 in quattro squadre suddivise da 5 elementi con 3 a turno in pista. La tappa locale è stata organizzata in collaborazione con il Centro Giovani Cacciatori e il Hockey Forte dei Marmi. La squadra giallonera schiera Mauro Dalmonte, Panizza, Alvaro Imenes, Deore e Barbieri, Rosso Bianca, Luiz e Pedro Gil, Muglia, Joao Pinto e Caio, Azzurra Bianca, Mattia e Alessandro Verona, Francesco Compagno, Giulio Cocco, Niccolò Mattugini, Bianconera, Barozzi, Palagi, Mirco Bertolucci, Gaviori e Ventura. Il prezzo del biglietto è di 10 euro sia per la singola serata che l'abbonamento per entrambe, per gli adulti e solo 10 centesimi per i bambini fino all'altezza di 1,60 m. L'occasione per propagandare questo sport ma probabilmente se anziché farlo nei palasport fosse stato fatto in una pista all'aperto con la possibilità di farlo vedere anche ai turisti presenti in Versiglia avrebbe avuto sicuramente maggior risalto. Il Viareggio 2014 fa sapere che nei giorni del 21 e 22 presso lo Stadio dei Pini si porterà un importante evento legato alla sperimentazione della moviola in campo. Si tratta di una iniziativa organizzata dalla Lega di Serie A in collaborazione con la società del Viareggio 2014 che consentirà agli arbitri di Serie A di sperimentare le modalità di applicazione di questo strumento altamente innovativo. La forma sarà quella di un torneo quadrangolare dimostrativo che vedrà la partecipazione di squadre giovanili, categorie allievi e juniores, di Viareggio 2014, Seravezza Calcio, Realforte Querceta e Camaiore Calcio. Ancora la società del Viareggio ringrazia tutti coloro che con affetto, impegno e passione oltre che spirito di appartenenza stanno dimostrando concretamente di voler aiutare con l'acquisto degli abbonamenti che hanno già assolato il numero venduto l'anno scorso. Occupiamoci di Beach Soccer, campionato italiano di Beach Soccer da venerdì a domenica che farà tappa a Viareggio con 18 squadre di Serie A e che porterà oltre 2000 persone in città. Il Viareggio Beach Soccer gioca sempre alle 18, le altre gare dalle 10 alle 20 e questa è un'occasione unica per tifare per i bianconeri di Stefano Santini. Venerdì alle 18 la prima partita del Viareggio contro la Vastese, sabato alle 18 San Benedettese di Viareggio, domenica sempre alle 18, Viareggio Romagna. Tutto il Beach Soccer Matteo Valenti al bagno Flora sul mare di Viareggio. E poi ancora un breve stacco e poi dopo le notizie di aggiornamento e gli auguri di buon compleanno. Terza parte del nostro giornale, sto guardando se ci sono notizie importanti di aggiornamento, niente di nuovo, allora passiamo direttamente alla rubrica degli auguri. Oggi è il compleanno di Luigi Gigi Bertuccelli da tutti conosciuto a Viareggio, gli fanno tanti auguri familiari, il nipotino Enea, i parenti e gli amici del bagno Irene. Buon compleanno anche a Luca Mazzara Viareggio, neo arbitro di calcio, gli auguri arrivano da parte dei parenti e di tutti gli amici. Ebbene è tutto per questa edizione del nostro giornale, l'appuntamento come sempre per le prossime edizioni. A tutti voi un buon proseguimento di serata, arrivederci. Grazie.